Consolini, benvenuti nel labirinto più strano di GTA V Non so chi l'ha creato, non so cosa stava pensando mentre lo ha fatto Probabilmente a nulla È una follia gigantesca E questo oggi lo proveremo Ci sono parkour, ci sono esplosivi, ci sono cose totalmente a caso C'è davvero di tutto E questo oggi ne lo testeremo in tutti i modi possibili Transfida è terribile No, è terribile Io mi sono messa qua perché sapevo di poter avere copertura Olleee! Arriva, arriva! E ragazzi, come va? Io sono Fieri Niki E io sono Stefanie, sto giocando GTA V E oggi siamo qui con un nuovo labirinto Pronti a provare cose folli Dato che anche il labirinto non è che sia proprio normale Allora avrete già notato che è quello di foglie classico Però addobbato in modo molto particolare È vero Stef? Sì, assolutamente sì Allora, prima di tutto Non sarà come gli altri due video che abbiamo fatto su GTA V Con i labirinti dove c'era Jason Dato che questa volta vogliamo fare qualcosa di diverso Dato che il labirinto è parecchio diverso Quindi cosa faremo? Esploreremo Faremo parkour Ci sfideremo in diversi modi Ci ammazzeremo con diverse armi Eccetera, eccetera, eccetera Io ti voglio chiedere prima di tutto una cosa Fere Dove sei? Vedi che tutto in alto c'è una piattaforma viola Come ci arrivi lì sopra? Se tu guardi la piattaforma gialla Ok Ok Si vede chiaramente che c'è tutta una roba Da dove saltare per arrivare a quella viola Proviamoci Io sto già facendo un parkour No ma dove sei? Scusa, io adesso ci stavo cercando per raggiungerti Ma questo labirinto con queste piattaforme in mezzo È più dispersivo di quello normale Sono caluto Ok Sto bene Sto bene Tutto a posto, tutto a posto Stavo provando ad arrampicarmi ed è andata male Pensavo stessi dicendo a me Invece poi ho guardato il tuo schermo E notato che sei in un posto molto strano Aspetta che arrivo Da qui Secondo me si possono raggiungere tante belle parti Dove sei, Steph? Salgo, 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 salgo Hai preso un elicottero? Ma io non li avevo visti i veicoli però, Steph Non mi hai detto nulla Ma lì è pieno di veicoli strabelli Obiettivo completato Guarda qui c'è anche una bici Una bici? Ho fatto una bici E cosa ce ne facciamo di una bici? Non lo so Ah, perché qua c'è una bella rampa Io volevo fare una cosa In questo video ce l'ho fatta Guardami, aspettando Ok, sì Lo prendo una bella rincorsa Sei pronto? Ok, vai Hai capito dove mi lancio? Sì, sì No, smettila di mirarmi Ah, ti sto guardando È per guardarti meglio Non so a cosa possa servire Però c'era una bici Ok Ok, la mollo qui in mezzo Provo a darti delle direzioni Vediamo se riesci a seguire le direzioni di Steph Ma questa non è una bella rincorsa Sali verso l'alto Verso sinistra Ok Sì, dritta Ok Continua tutto dritto Arriva all'autobus E sali sopra l'autobus Se lo posso fare Sì, secondo me sì Attenta a non cadere di sotto Fede Dall'elicotero ho trovato un'altra figata Seguimi Dove sei? Io non vedo dove sei Dammi indicazioni Ah, eccoti, sì Perfetto Desidera qualcosa? Che stai cercando di fare? Sto facendo il mio lavoro Esci dall'istra Vendo ciambelle Bibite Caffè No Cosa preferisci? Niente Steph Perché tu non sei un venditore adatto Hai già fatto merenda? Specialmente vestito così Guarda Hai ragione Aspetta Aspetta che mi cambio Mi metto un abito un pochettino più adatto all'occasione Ho visto una cosa Ok Non l'ho fatta vedere neanche i consolini Ed è una sorpresa Adesso ti ci porto E vedrai quanto è figa A parte che io credo che quest'aereo si possa prendere Ma ci proveremo in un altro momento Perché al momento non me la sento proprio Ok, dove sei? Però ho trovato una strada interessante Non correre Steph Che non si capisce niente qui in mezzo Mi metti un'ansia assurda E perché poi mi perdo anche io Ecco, ti vai Ciao Allora, tu devi salire qua Ok E salire qua Poi scendiamo da qui Saliamo qui Ok Ok E ho sbagliato strada Perfetto Ok L'importante è quello Però Allora, vedi questa rampa gialla Di fronte a noi? Sì Dobbiamo salire lì Allora Saliamo Ed è un parkour È difficile Però se arriviamo alla fine C'è una sorpresa figa Sopra sorpresa Ok Che sorpresa È molto più semplice del previsto Guarda Che sorpresa Un altro elicottero Sì, però che si strafigo Guarda la mitraglietta che c'ha Io mitraglio È divertente Posso disegnare i cuoricini Guarda Allora Dove vuoi andare? Non lo so Dove ce ne andiamo? Boh Che poi non so quanto possiamo girare la mappa Perché sicuramente sarà limitata Quindi non è che possiamo andare Perché giamo qua? No Perché giamo qui Tranquilli Mio cuore di proiettili Aspetta Quello è un cuore Se vuoi un altro? Aspetta, ne faccio un'umiliare Togliti, eh Che poi è pericoloso, eh Non dire che non ti ho avvertito Allora, questo è ancora più bello Però quello era più bello Era un cuore perfetto Ho preferito morire anche io Piuttosto che andare avanti così con te Te lo dico Come puoi vedere Qua c'è lo start È la partenza per la nostra gara L'obiettivo È arrivare Tutto su dove c'è quel veicolo Che può sparare con la mitraglia Ok Per primi E mitragliare l'altro Allora, aspetta Qual è il veicolo con la mitraglia? Quello dovevi andato tu prima Tramite l'autobus Oddio, da quella parte Ok 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 3 È una gara di corsa 3, 2, 1 Via E anche di azzecare la strada E anche di, sì Di non sbagliare la strada Allora, bisogna sicuramente andare verso queste parti Però per il momento Ci stiamo andando assieme Perché ovviamente la strada è Ho sbagliato io Credo di aver sbagliato Questa è una bella strada Credo di aver sbagliato Ci vado Ce la faccio Vieni qua Vieni qua La faccio Secondo me è questa la strada giusta Non me la ricordo No, togliti Ciao No, cadi tanto da lì sopra Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Sono al veicolo Come si spara, Steph? Perché non sono un tasto Ci sono anche io, Fere Come la prendiamo? Perché ci siamo Chiaramente tutte e due dentro il veicolo Quindi uno non può sparare l'altro, Steph È un pareggio No, esci fuori e ti sparo No, esci fuori tu Perché io ero già seduta qui Sto cercando di sparare il veicolo ma non fa Seconda sfida, Fere Metti la pistola Vai in prima persona Ok E ci sfidiamo No, Steph, ho paura Lo so Senza minimappa Pistola metti quella da combattimento Se ce l'hai Tre Due Uno Vai dentro il labirinto Sono già dentro il labirinto, Steph Ok Vieni a cercarmi Allora, ci troveremo prima o poi È pieno di cose in giro Che possono essere utili per sopravvivere E valgono prenderle L'importante è che non si utilizzino altre armi No, beh, certo Quello mi sembra logico Ci vado lì Ok Ti faccio sapere che ho trovato un giubbotto antiproiettili Ma dai, non è giusto però Io non ho trovato niente Se non armi che non posso utilizzare Quindi non è molto Continuiamo ad avanzare Beh, lì avevo trovato un lanciamissili Quindi ringrazia che le armi non possiamo utilizzarle Ma vale anche nascondersi Sì Ho trovato un divano Fere Dove sei? Allora Ti stavo aspettando Era ovvio che non potevi stare sopra, Fere No, perché io sono finita dietro questo recinto E l'unica strada era quella Quindi mi sono ritrovata qui su Ho detto all'ospedale Dovevi scendere E continuare a giocare stando a terra Intanto sei morto Adesso scendi E continuiamo Sei morto Non sono morto No, 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 no Hanno visto tutti che sei morto Non hai neanche capito da dove stavano arrivando gli spari Beh, certo Mi spari dall'alto Facile la vita così Sì, te lo metti Dai, sappiamo tutti che te lo sei meritato Che se io ti ho sparato così È perché hai fatto qualcosa Cosa ho fatto? La combini sempre Quindi va benissimo Eh, certo Dove sei? Facile così, vero? Sei di nuovo nel labirinto? Sì, sì Perché ovviamente non è che riappari là Quindi Ti riempio di proiettili Non credo proprio Appena ti vedo ti buco la faccia Ma io ti buco la testa Ma cosa vuoi fare? Bucare la tua testa Guarda, appena ti trovo Ti massacro Bene Dove sei? No, mi ho scoperto Aiuto Mori No, sto ricaricando Ok, aiuto Esci fuori Ma quante volte ti ho Ma tu ti hai mai fuori? Te ne ho dato almeno 20 di proiettili Ma prego Cavolo Aiuto Sta sfida è terribile No, è terribile Io mi sono messa qua perché sapevo di poter avere copertura Allee Arriva, arriva Comunque fanno schifo queste pistolette Ho sperato almeno 20 volte Non sei morto Cioè, ma dimmi te Ma dimmi te Almeno un round di nascondino secondo me è giusto farlo perché nel labirinto normale non esce bene ma con tutti questi oggetti qui in giro secondo me ci si può nascondere alla grande Ok, vai E io ho pensato a un nascondiglio molto bello Quindi adesso mi nascondo qui Faccio così Hai fatto? Sì, vai Ferre Ti posso sparare? Cioè, cosa vale? Tutto Se mi vedi mi puoi proprio disintegrare Allora io uso questa Di cattiveria Non voglio neanche sapere cosa c'è Una bella arma Una bella arma così Consolini Riesco a spararti bene Potete gustarvi il mio nascondiglio È davvero bello Non so se Ferre penserà proprio a questo Però stiamo a vedere In ogni caso Potrebbe pensarlo Perché è uno dei nascondigli Ma sei nel labirinto, sì Eh, sono in tutta la zona circostante Guarda che succede per di colpi oggi Ma stai ziccio Eri tuttato Ma stai ziccio Perché ti avevamo detto dentro il labirinto Non i posti strani Cosa c'è qui? Allora Io adesso tirerò una granata Per farti capire un pochettino La zona in cui sono Ok, vai Non si è capito nulla Ne tira un'altra Ok Ok, l'esplosione è arrivata da quella parte Quindi tu per forza sei da quella parte Sono rimasto zitto per un motivo Ma è esploso l'aereo? Cioè hai dato fuoco all'aereo? Perché io vedo fuoco Ho fatto danni Eh, l'ho noto L'ho noto, sì Però Almeno hai capito un po' la zona Ok Adesso Dato che ti ho dato un indizio Qualche altra granata in giro Volerà Per caso Certo Se magari Ti scivola addosso E saremo tutti tristi Sei sui cespugli lì sopra Secondo me Nah, ma che banale Perché sei proprio talmente Sì, tu sei una persona banale Quindi secondo me tu sei qui in mezzo Mh Vero? Non mi sembra E che io non ti posso vedere Non mi sembra In prima persona ti vedo Non lo so Perché non si vede niente Sì, sei qui davanti C'è qualcosa di rosso Oh, non ti vedevo Sono assurdi sti alberi Non ti vedevo Sono passata vicina Sono dovuta andare in prima persona E ora ti ho riconosciuto Solo perché nelle foglie Vedevo una sfumatura di rosso E sapevo che eri vestito di rosso Non ti vedevo Ho sparato nel rosso E sei morto Quindi Ti sei divertito a spararmi Moltissimo, moltissimo Cos'era? Un fucile a pompa quello? Perché se non ci si si Lasciateci un like E se la prima volta che vedete Il nostro video Potete considerare il link O di iscrivervi Per non perdere i video E il trefiso Ciao E alla prossima Ciao Ciao Ciao